E Don Bosco non poteva essere più contento di come sono andate le cose stasera, una messa meravigliosa noi abbiamo Don Angelo Santorsola c'è stato un momento in cui dentro il mio cuore qualcuno ha detto mettiamo due tende e restiamo per sempre qui e sì sarebbe bello fare due tende ma il Signore ci insegna è bello stare con Lui però poi ci porta a uscire e a portare quella gioia che ci fa sperimentare nello stare con Lui a chi ne ha più bisogno quindi non possiamo stare fermi l'Eucaristia ci porta a uscire e andare nelle piazze e incontrare le persone per portare la gioia del Vangelo. E poi si è cantato del chicco di frumento che cade nella terra e qui a Soverato è caduto e ha fatto crescere Soverato e Salesiani come ha detto lei nell'Omelia. Sì sono convinto perché l'ho sperimentato i Salesiani sono cresciuti con i cittadini di Soverato e Soverato è cresciuto insieme ai Salesiani, insieme si possono fare tante cose, c'è stata questa bella collaborazione negli anni che continua ad esserci e sono certo che sarà sempre più bella per poter fare ancora tante cose sempre per l'educazione dei giovani. In un mondo dove tutti aspirano a qualcosa lei ha detto a chiare lettere servizio non carriera quindi anche un ispettore che è potentissimo dà servizio. No, un ispettore non è potentissimo si mette a servizio e come dice Papa Francesco non dobbiamo mai aspirare alla carriera ma soprattutto nell'ambito cristiano religioso è un servizio non è una carriera dove ci si ci si mette sulle spalle tutte le responsabilità ma lo si fa con amore anche nei tempi difficili proprio perché è un servizio e non una carriera. E un'ultima battuta domenica Don Mimmo ha detto che Don Bosco come tutti i santi era visto un po' male sembrava strano e sembrava un rivoluzionario ma è bello così. Meno male Don Bosco è stato lo dicevano pazzo un folle e io sono contentissimo perché credo che oggi c'è bisogno di più pazzi più folli per amore per il regno di Dio per diffondere la gioia forse siamo troppo statici Don Bosco era dinamico perché un uomo di Dio e quando uno vive l'amore l'amore è dinamico non è staticità quindi è viva la pazzia di Don Bosco. E quando ero all'oratorio di Salerno alla fine la messa si davano gli avvisi vi ha dati anche lei stasera? Eh sono avvisi belli avvisi per dire che Don Bosco continua l'opera dei Salesiani continua un ispettore finisce grazie a Dio dopo sei anni è la cosa più bella nella vita religiosa che uno svolge un servizio e poi ritorna ad essere con fratello semplice per continuare la missione in mezzo alla gente quindi eh sono avvisi di di speranza di continuità i Salesiani vanno avanti il carisma continua l'intervista l'intervista l'ha fatta anche al sindaco architetto Daniele Vacca perché i Salesiani e le istituzioni sono a fianco qui a Soverato e dovunque sindaco una bellissima cerimonia tanta emozione sì una grande emozione anche il messaggio che ha dato Don Angelo a tutta la comunità che è quello riguardante ai giovani e di parlare ai giovani sempre con il cuore la comunità è molto riconoscente all'istituzio salesiano perché io sempre dico che è nato sempre prima all'istituzio salesiano e la città è cresciuta attorno all'istituzio salesiano e quindi è un segno di riconoscenza che abbiamo verso l'istituzio salesiano nella stessa giornata in cui abbiamo ricevuto ieri un piccolo cenno peraltro opinabile ma di peggioramento di minimo peggioramento delle condizioni di salute del cospito lo abbiamo trasferito come si dice in die cioè nella stessa giornata con le condizioni di massima sicurezza e celerità nella struttura carceraria più idonea in assoluto a conciliare la sicurezza della detenzione e del mantenimento dell'articolo 41 bis come è stato prima ben espresso dal presidente Tajani con la assistenza sanitaria carcere di opera è questo lo so anche come esperienza di pubblico ministero visto che per 40 anni ho avuto a che fare anche con i detenuti in quanto magistrato è veramente un'eccellenza e quindi la salute del cospito è assolutamente garantita questo questo non significa ovviamente un minimo cedimento da parte dello Stato nei confronti di quanto sta accadendo e delle forme di intimidazione è un riconoscimento ma peraltro quasi banale riaffermarlo che una cosa è la doverosa espiazione della pena una cosa è la doverosa tutela della sicurezza pubblica e un'altra cosa terza è la assoluta tutela della salute del detenuto ultimo dato che potremmo definire politico è che questa ondata di violenze e di gesti vandalici e intimidatori è sono una da un lato costituiscono la prova che questo legame tra il detenuto e i suoi compagni esterni rimane e quindi tenderebbe a giustificare il mantenimento del 41 bis e dall'altro che lo Stato non può minimamente venire a patti o essere intimidito o dare anche il segno di essere intimidito da attività violente o minacciose ci sono dei nodi che non sono stati sciolti e devono essere sciolti altrimenti ci sarà da parte nostra un'opposizione durissima a questa ipotesi di autonomia differenziata detto con molta franchezza io credo che stiano premendo a livello nazionale in vista delle elezioni in Lombardia quindi facciamo passare questa scadenza poi ragioniamo quello che è inaccettabile è sostenere che l'autonomia differenziata possa andare avanti a costo zero per le finanze pubbliche questa è una presa in giro e poi dobbiamo fare attenzione a non dividere il sistema sanitario e il sistema scolastico a livello regionale questi sono i pericoli che dobbiamo sventare abbiamo avuto modo di spiegare le nostre ragioni su quello che deve essere un sistema di informazione corretto da fornire ai cittadini nei quali si spiechi ovviamente che gli eccessi di alcol come gli eccessi di qualsiasi cosa portano danni ma che non debbono essere confusi e diventare uno stigma per alcune produzioni invece che assunte in maniera moderata con parsimonia possono invece essere fattori di benessere noi riteniamo il vino un fattore di benessere e non lo diciamo solo noi lo dicono autorevoli nutrizionisti lo dicono tanti medici i risvolti positivi sulle malattie cardiovascolari su l'assunzione attraverso il vino di proteine vitamine possono dare benessere oltre che garantire la prosecuzione di un modello di attività che da migliaia di anni caratterizza il consumo di questo prodotto valorizzandone anche l'utilizzo ai fini conviviali che di per sé portano dei risultati positivi e per noi italiani rappresentano una fetta importante di mercato non ce lo dobbiamo nascondere non solo per noi italiani ma anche per i francesi gli spagnoli ho parlato con entrambi i ministri oggi sia di Spagna che di Francia per rafforzare la volontà di collaborare abbiamo predisposto un documento comune che verrà anche sottoscritto da altre nazioni coinvolte in questa vicenda direttamente ne ho parlato anche col mio collega greco con la mia collega portoghese sempre nella mattinata di oggi per avere una posizione comune che sia sempre più tesa ad informare correttamente ma a non danneggiare delle produzioni guardando solamente a un aspetto della produzione stessa un nuovo macchinario di precisione che permette di passare dal trattamento di 500 a 800 pazienti oncologici all'anno è stato inaugurato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila a beneficiarne saranno i pazienti in lista d'attesa come spiega il governatore abruzzese Marco Marsilio è un acceleratore lineare che consente di fare cure tumorali oncologiche molto più rapide e molto più precise quindi con molto meno danno collaterale per il paziente che viene investito da questa terapia e con una durata delle applicazioni molto inferiore che consente di passare è stato stimato qui all'Aquila da 500 a 800 prestazioni all'anno significa incrementare del 60% la capacità di cura per i nostri pazienti con evidenti ricadute sull'abbattimento delle liste d'attesa e sulla garanzia anche della tempestività con cui malati di gravi patologie come quelle oncologiche possono accedere al diritto alla salute all'inaugurazione sono intervenuti il manager della ASL Ferdinando Romano il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi il rettore dell'università Edoardo Alesse il direttore della radioterapia oncologica Giovanni Luca Gravina e l'assessore alla sanità Nicoletta Veri che ha illustrato le cifre del finanziamento questa inaugurazione si va a innescare in quello che è la nuova riorganizzazione di tutto il nostro sistema sanitario a livello regionale con una delibera di giunta del giugno 2020 abbiamo stanziato più di 6 milioni suddividendo tra le varie arse la possibilità di acquistare questi acceleratori lineari la voce di Pierpaolo Pasolini riecheggia all'università Federico II sarà visitabile fino al 31 marzo l'installazione sonora Comizi realizzata dall'Ateneo Napoletano in occasione dei 100 anni della nascita del poeta scrittore e regista si tratta di 4 cabine sonorizzate le cui sagome richiamano le P dell'acronimo del poeta che consentono di entrare in una dimensione puramente auditiva seguendo un percorso non prestabilito il progetto ideato dal Dipartimento di Studi Umanistici e frutto della collaborazione con il Dipartimento di Architettura vuole mettere al centro un aspetto solitamente trascurato quello della voce di Pasolini il significato dei testi di Pasolini delle scomode interviste di Pasolini non sta solo nella semantica e nella sintassi dei suoi discorsi ma anche in quei tratti saprasegmentali in quella dimensione telefonica sonora che davvero restituisce tutta la scabrosità aurotticante di Pierpaolo Pasolini ha partecipato all'inaugurazione dell'installazione anche Ninetto Davoli attore protagonista di numerosi film di Pasolini Pierpaolo Napoli era ancora quella città che diceva sempre la città rimasta ancora arcaica ed è vero ed è rimasta così ed è così ed era un mondo che a Pierpaolo gli piaceva un po' gli piaceva perché comunque qui c'è ancora la verificazione il sapore delle persone vere il sorriso l'istinto nel cuore di Roma a pochi metri dalla basilica di San Pietro Visionarea Art Space inaugura il 2023 con Physician Rendering personale di Vincenzo Marsiglia in mostra dal primo febbraio al 25 marzo 2023 l'artista propone un percorso tra fotografie digitali realtà aumentata e occhiali HoloLens per un incontro ravvicinato con le nuove frontiere dell'arte contemporanea tra digitale e reale Physician Rendering mostra organizzata con il supporto della Fondazione Cultura e Arte ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale presieduta da Emanuele Emanuele riunisce le opere distintive degli indirizzi di ricerca intrapresi dall'artista durante il suo percorso pluriennale al punto da restituirne una visione sintetica e paradigmatica il presidente della Fondazione Terzo Pilastro sottolinea come la peculiarità di Marsiglia risieda nell'individuare sempre nuove soluzioni per lavorare sulla realtà aumentata e sviluppare in modi innovativi la possibilità di interagire con lo spazio reale attraverso la tecnologia sono stati 164,6 milioni i passeggeri transitati negli aeroporti italiani nel 2022 più del doppio del 2021 anno in cui tra effetti della pandemia e restrizione alla circolazione i viaggiatori furono solo 80,7 milioni traffico aereo in ripresa dunque con volumi per il sistema nazionale pari all'85% di quelli del 2019 nel corso del 2022 infatti il gap rispetto ai 193 milioni di passeggeri pre-covid si è progressivamente ridotto passando dal meno 39% del primo trimestre al meno 12% del secondo fino al record dei mesi estivi meno 7 seguito dal meno 9 degli ultimi tre mesi dell'anno lo evidenzia ASSA aeroporti nel consultivo 2022 dei dati di traffico degli aeroporti italiani analizzando i dati per classi dimensionali in funzione dei flussi pre-pandemia emerge che nel 2022 a trainare la ripresa del traffico aereo sono stati gli aeroporti medi e piccoli molti dei quali hanno superato i livelli del 2019 tra questi si segnalano gli scali di Milano Linate 1 Bari Palermo e Napoli per la fascia tra i 5 e i 15 milioni di passeggeri gli aeroporti di Brindisi Alghero Olbi e Torino per la categoria tra 1 e 5 milioni di passeggeri gli scali di Foggia Bolzano Trapani Grosseto Cuneo Perugia Parma Taranto Lampedusa Comiso Pescara e Crotone per la classe con meno di un milione di passeggeri annui gli aeroporti con un traffico superiore e 15 milioni di passeggeri sono invece caratterizzati da tassi di incremento meno marcati via libera della conferenza Stato-Regioni al nuovo piano di gestione dei rischi in agricoltura tra le novità principali è previsto il via a un fondo mutualistico nazionale per le aziende agricole che percepiscono pagamenti diretti contro i danni alle produzioni causati da calamità o altri eventi avversi oltre che specificare i rischi e i prodotti coperti dal fondo il piano indica anche le franchigie e i limiti di indennizzo e introduce la premialità nei risarcimenti ai nuovi assicurati l'integrazione tra i due strumenti contribuirà a sostenere il reddito degli agricoltori a fronte dei sempre più frequenti cambiamenti climatici in merito alle polizze è stata incrementata la percentuale massima di aiuto sulla spesa premi dal 65% al 70% per favorire alcuni prodotti e territori che oggi manifestano una scarsa adesione al sistema assicurativo sono state semplificate le combinazioni degli eventi atmosferici che rientrano nell'assicurazione questa soluzione mira ad agevolare le scelte degli imprenditori agricoli l'unione europea continua a fare affidamento in gran parte sui combustibili fossili per il suo approvvigionamento energetico complessivo secondo un rapporto Eurostat nel 2021 i combustibili fossili costituivano il 70% dell'energia lorda disponibile lo stesso livello del 2020 questa percentuale però è diminuita notevolmente negli ultimi decenni dal 1990 è sceso di 13 punti percentuali principalmente a causa dell'aumento delle energie rinnovabili nel 2021 Malta con il 96% rimane il paese dell'unione europea con la quota più alta di combustibili fossili seguita da Cipro e paesi bassi la maggior parte degli altri paesi ha quote comprese tra il 50 e l'85% solo Svezia Finlandia e Francia sono sotto il 50% rispetto al 2020 nel 2021 le diminuzioni maggiori si sono verificate in Finlandia Belgio Lituania Portogallo e Danimarca combustibili fossili in aumento invece in Bulgaria Estonia Polonia Slovacchia e Spagna le prospettive economiche mondiali sono meno cupe di qualche mese fa pur constatando un rallentamento della crescita rispetto al 2022 il Fondo Monetario Internazionale alza le stime di crescita per il 2023 al più 2,9% un ritocco al rialzo generalizzato che include anche l'Italia con il PIL del bel paese atteso a crescere quest'anno dello 0,6% ovvero 0,8 punti percentuali in più rispetto ad ottobre meglio del previsto anche la Germania che spunta una crescita dello 0,1% grazie a una revisione pari a più 0,4 punti e la Russia la cui economia tiene di fronte alla guerra peggiora invece la Gran Bretagna che si rivela fanalino di coda del G7 con un PIL in calo dello 0,6% il rialzo dei tassi di interesse da parte delle banche centrali e la guerra in Ucraina continuano a pesare sull'attività economica afferma il Fondo Monetario Internazionale illustrando l'aggiornamento del World Economic Outlook nonostante questo l'outlook meno cupo rispetto ad ottobre aggiungono gli esperti di Washington secondo i quali le strette delle banche mondiali iniziano a raffreddare la domanda e la corsa dei prezzi ma la battaglia contro l'inflazione è lungi dall'essere vinta La mozzarella di Bufala Campana è il formaggio DOP che ha fatto registrare la crescita di produzione più alta tra il 2016 e il 2022 mettendo a segno un aumento del 26% a fronte di una crescita media del 10% della produzione certificata è la fotografia dello stato di salute scattata dal primo osservatorio economico sulla filiera della mozzarella di Bufala Campana DOP realizzato in partnership con Unicredit Enomisma presentato a Milano nella tree house di Unicredit i numeri seppure incoraggianti vanno letti però nell'ambito di una congiuntura complessa come spiega il presidente del consorzio di tutela Domenico Raimondo i dati della produzione sono positivi l'unico problema è che bisogna leggere un attimino questo dato dal punto di vista economico negli ultimi anni siamo cresciuti con i quantitativi però non riusciamo a crescere dal punto di vista economico negli ultimi due anni post covid guerra in corso l'anno ancora più difficile dove ci sono stati degli aumenti di materia prima per quanto riguarda l'energia per la produzione di energie di gas ed elettricità e quindi aumentiamo il latte il prezzo del latte non riusciamo a aumentare il prezzo del prodotto finito sui nostri banchi di consumo 9 italiani su 10 hanno consumato mozzarella di bufala nell'ultimo anno il 25% almeno una volta a settimana e il 20% si dice pronto a farlo anche a colazione per le aziende della filiera il PNRR e il nuovo piano strategico della PAC 2023-2027 rappresentano adesso una grande opportunità come spiega Annalisa Areni di Unicredit Il nostro ruolo sarà un ruolo a tutto tondo per assistere tutte le numerose micro imprese che fanno parte della filiera con sostegni finanziari e non solo Unicredit opera all'interno dei territori cercando di sostenere quanto più possibile lo sviluppo che crea anche occupazione di alcune filiere Dopo sette trimestri consecutivi di crescita l'economia italiana registra una battuta d'arresto ma il prodotto interno lordo del 2022 è aumentato del 3,9% rispetto al 2021 Un dato superiore alle stime del governo contenute nella Nadef che indicavano per lo scorso anno una crescita del PIL del 3,7% Lo rende noto l'Istat che in base alle stime preliminari registra un calo dello 0,1% del PIL nel quarto trimestre 2022 rispetto ai tre mesi precedenti quando però si è lavorato tre giorni in più La variazione congiunturale riflette dal lato dell'offerta una contrazione dei settori dell'agricoltura e dell'industria e una lieve crescita nel comparto dei servizi Dal lato della domanda Istat registra un contributo negativo della componente nazionale e uno positivo della componente estera netta La crescita acquisita per il 2023 è pari a più 0,4% Rispettiamo la natura degli animali selvatici La presenza di animali selvatici in città rappresenta un fenomeno sempre più diffuso in Italia e nel mondo a causa dell'espansione dei centri abitati e della conseguente diminuzione degli habitat naturali che li ospitano Il rischio è letale per la fauna poiché purtroppo la soluzione adottata dalle autorità locali risulta essere l'abbattimento È il caso di Freia a tricheco femmina nel porto di Oslo che è stato tra gli ultimi episodi che hanno ribadito la gravità di un problema che andrebbe affrontato alla radice E se il cane fu tra i primi animali selvatici addomesticati è pur vero che il fenomeno sta andando al di là del comune buonsenso Molte in Italia le testimonianze su animali selvatici domestici tra cui volpi ricci o petauri dello zucchero assai richiesti nell'ultimo periodo Oltre ad essere una pratica pericolosa per chi accoglie questi animali in casa l'iniziativa non si rivelerebbe salutare per la specie stessa che costretta a vivere lontana dal proprio habitat naturale accuserebbe pesanti effetti collaterali Come agire e quindi a favore degli animali selvatici per prima cosa tenendosi a distanza da essi sia in città che nel loro habitat naturale poiché un contatto ravvicinato potrebbe causare stress e paura stimolando così comportamenti difensivi pericolosi da parte dell'animale selvatico Nel caso in cui un animale si spingesse fin presso centri abitati è opportuno mantenere sempre la distanza comunicando l'accaduto alle istituzioni di dovere è possibile tuttavia aiutare i centri di recupero che si occupano di cura ospitalità e reinserimento della fauna selvatica visitando i siti internet delle suddette associazioni dove è possibile avere informazioni sul comportamento da tenere in caso di incontro o soccorso di un animale selvatico o soccorso